Continua quell'attenzione da parte di operatori aeroportuali che scelgono il nostro aeroporto. Contiamo per la fine del mese di poter annunciare un altro insieme di nuovi voli. Ci sono Parigi e Mosca tra i nuovi scali che verranno prossimamente aperti all'aeroporto marchigiano. Nuovi collegamenti che permettono di aprire ancora di più al turismo la regione Marche che si è recentemente aggiudicata anche una vetrina lusinghiera nell'edizione online del Sunday Times. Il giornale inglese, in un ampio servizio, presenta la terra marchigiana come una meta turistica tutta da scoprire che nulla ha da invidiare mellezze naturalistiche e artistiche a Toscana e Umbria, molto più affollate e costose. Due buone notizie che fanno eco a quella della scorsa settimana sulla giudicazione al momento solo provvisoria di Enjord Adriana per diventare socio privato di maggioranza di Erdorica, la società di gestione dell'aeroporto delle Marche il cui attuale socio di maggioranza è la regione. Prossimo passo, il via libera della Commissione UE alla ricapitalizzazione da parte della regione. Un buonissimo punto di partenza, adesso bisogna incastrare i prossimi passaggi. Già è stato inviato alla Commissione Europea tutta la documentazione all'indomani della giudicazione definitiva del bando di gara e quella sarà la prossima tappa, la risposta della UE, perché grazie a quella si libereranno non solo i 15 milioni dell'offerta del privato ma anche i 25 milioni della regione Marche per sanare il passato. Poi il 14 marzo l'appuntamento invece è con l'Assemblea dei Creditori, giusto? Il 14 marzo l'Assemblea dei Creditori che arriverà ovviamente dopo gli altri passaggi perché sul tavolo i creditori qualcosa devono avere e se appunto dovessero accettare il concordato, cosa più che auspicabile, si ripartirebbe di fatto da zero con una nuova compagina societaria, con un quadro economico solido, con la possibilità di fare quegli investimenti sull'aeroporto che non sono stati fatti da tanti anni.